L'1.19 buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale, il massiccio raid aereo di Israele sulla periferia sud di Beirut dove è situato al quartier generale di Hezbollah. L'obiettivo il leader Nasrallah che secondo fonti vicine al movimento uscita libanese sarebbe scampato all'attacco. Secondo i media libanesi sei palazzi sarebbero stati rasi al suolo. All'assemblea generale ONU, il premier israeliano Netanyahu ha attaccato Teherani, Israele è stato costretto a difendersi su sei fronti sostenuti dall'Iran, se ci attaccate ha detto vi colpiremo. Poi il duro attacco alle Nazioni Unite, definite una palude antisemita e una società terrapiattista anti-israeliana. Intanto proseguono gli attacchi mirati contro depositi di armi in Libano. Razzi sul nord di Israele è stata la risposta di Hezbollah all'attacco dell'esercito israeliano su Beirut che poco prima delle 18 e 30 locali ha distrutto il quartier generale della milizia sciita filo-iraniana Adair Roccaforte del partito di Dio nel sud della città. Sempre qui in serata l'ADF hanno invitato i civili ad allontanarsi da tre siti considerati depositi di armi di Hezbollah e obiettivi di nuovi bombardamenti. Versaglio del raid del pomeriggio Hassan Nasrallah che si trovava nella capitale libanese per una breve visita. Il portavoce dell'esercito israeliano Agari ha parlato di attacco molto preciso affermando che l'esame del suo esito è ancora in corso. Fonti di Hezbollah sostengono che Nasrallah sia ancora vivo. Ad essere colpito a morte è stato sicuramente Shem Safi al-Din, cugino di Nasrallah, capo del consiglio esecutivo del partito di Dio. Si temono centinaia di morti, fanno sapere fonti della sicurezza libanesi. Non abbiamo avuto alcun ruolo, ha affermato il presidente statunitense Biden. Dopo il raid su Beirut, getta da combattimento dello stato ebraico, hanno poi continuato a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Hamas, jihad islamic e Iran, con la guida suprema Khamenei che ha convocato d'urgenza il Consiglio Supremo per la Sicurezza, promettono vendetta. Dobbiamo evitare un conflitto regionale, ha ammonito il segretario generale delle Nazioni Unite Guterresci in sede di Consiglio di Sicurezza. Poco prima dell'attacco su Beirut era stato invece Netanyahu a parlare all'ONU, all'Assemblea Generale. Di fronte ad una platea semivuota per le molte defezioni in segno di protesta, il premier israeliano, poi ripartito immediatamente per fare il ritorno in patria, ha detto di essere a Palazzo di Vetro per mettere le cose in chiaro. Ci stiamo difendendo da sei fronti di guerra in contemporanea, il nemico vuole eliminarci e condurci nel buio. Se ci attaccherete, noi vi attaccheremo, ha detto rivolgendosi ai nemici di Israele, l'Iran e i suoi alleati. Ha perorato un accordo di normalizzazione con l'Arabia Saudita, il cui ministro degli esteri lo ha però accusato di avere completamente ignorato la questione palestinese. Infine, un pesantissimo affondo, i veri criminali di guerra non sono in Israele, ma oramai l'ONU altro non è che una palude antisemita. L'incontro fra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky oggi nella Trump Tower a New York. Il candidato alla Casa Bianca si è proposto come mediatore per porre fine alla guerra fra Russia e Ucraina, anche se non sono mancati momenti di imbarazzo. Come quando Trump ha parlato di Putin, ha ottimi rapporti con lui, ha detto che l'Ucraina sta vivendo una situazione infernale. Parole che hanno gelato Zelensky, che ha risposto spero che noi avremo relazioni migliori. Trump poi ha concluso, se vinco prima di insediarmi credo sarà possibile fare qualcosa di positivo per entrambe le parti. Le notizie dall'Italia con la politica. Si acquiscono le spaccature nell'opposizione dopo il voto sul CDA della Rai. Il centrosinistra è diviso anche sui candidati alle regionali in Liguria. I 5 Stelle pongono il veto contro alcuni esponenti di Italia Viva. Se il centrosinistra si è diviso in aula in occasione del voto per i nuovi consiglieri Rai, ora il campo largo subisce un'altra battuta d'arresto. In Liguria, in vista del voto per le regionali, scatta il veto pentastellato contro alcuni esponenti di Italia Viva, presenti nella lista dei riformisti, con più Europa e socialisti. E la renziana Raffaella Paita spiega. Nelle ultime ore, su pressione dei 5 Stelle, c'è stato chiesto di eliminare l'apparentamento o cancellare dalla lista i nomi di alcuni nostri rappresentanti e per noi è politicamente non serio. Per il partito dell'ex premier, quanto accade ora in Liguria, potrebbe minare alla base anche il tentativo di dar vita alla più larga alleanza di centrosinistra a livello nazionale, ma il movimento guidato da Giuseppe Conte non cambia idea. Avevamo chiesto, spiegano, di non avere in coalizione il simbolo ed esponenti che fino a ieri erano in giunta con il candidato del centrodestra Bucci. E a nulla vale anche l'appello del candidato del centrosinistra in Liguria, l'ex ministro Dem Andrea Orlando, che si rivolge a tutti i possibili alleati e puntualizza. Una delle parole che sento ripetere quando incontro le persone è «unità». Giro questo appello al Campolargo e ai suoi dirigenti. Ma i 5 Stelle puntano il dito anche contro di lui. Sapeva del nostro veto, dicono, ma non è intervenuto. Per i renziani, però, quanto accaduto segna un punto di non ritorno e annunciano. Visti i tempi stretti, non c'è più spazio per costruire una lista alternativa. Italia Viva non parteciperà alle elezioni regionali Liguri. La cronaca adesso. Drammatico salvataggio di migranti a Lampedusa. Una barca di turisti si è trovata davanti un gruppo di naufraghi. 50 di loro sono stati salvati. Stavano facendo una gita in mare a Lampedusa, un gruppo di turisti, quando si sono trovati davanti una barca carica di migranti in difficoltà. Il comandante della nave da di porta ha chiamato subito la guardia costiera, ma non c'è stato tempo di aspettare i soccorsi, perché a quel punto i profughi si sono spostati tutti dallo stesso lato dell'imbarcazione per chiedere aiuto, come spesso accade, e sono finiti in acqua. E così i turisti con il loro comandante hanno fatto il possibile per mettere tutti in salvo, con l'aiuto anche di un'altra barca turistica che nel frattempo si era avvicinata. Li hanno strappati dal mare, tirandoli per le braccia tantissimi bambini, anche molto piccoli. Alla fine sono 50 i migranti sopravvissuti, tutti, tranne due. Un neonato e un bimbo di circa dieci anni. Una delle testimonie ha raccontato, l'ho visto gridare con gli occhi sbarrati, poi è finito sott'acqua e non è più risalito. I sopravvissuti sono stati poi trasportati su una moto vedetta della guardia costiera e portati a terra. Addio all'attrice britannica Maggie Smith, leggenda del teatro e dello schermo, per più di 70 anni è morta a Londra a 89 anni. L'attrice è nota per la saga cinematografica di Harry Potter e la serie Downton Abbey e per tante commedie ha vinto due Oscar nel corso della sua lunga carriera. Qui era la grande famiglia di Downton Abbey, la serie che andò in onda per quasi un decennio. Oggi è tutto il mondo a dare l'addio a una delle attrici inglesi più amate, Maggie Smith, 89 anni, è morta oggi a Londra. Una vita sul palcoscenico, dei teatri della capitale inglese, di quelli di Broadway, poi alla televisione, al cinema, insignita dalla regina Elisabetta del titolo di dama, frutto della decorazione a cavaliere dell'onore dell'impero britannico. Era nota per il suo cinema di ispirazione letteraria, per la precisione con cui sapeva dipingere dei quadri d'epoca, nelle interpretazioni, nel modo in cui si calava nei costumi, nelle scenografie. Una carriera lunghissima che le diede nella sua età matura a una popolarità nuova quando esplose negli anni 2000 con la saga di Harry Potter. Unica attrice ad essere personalmente richiesta dall'autrice J.K. Rowling per la parte di Minerva McGranit e in cui recitò a dispetto di un tumore al seno poi superato, Smith raccontava alla BBC che era strano per lei essere riconosciuta per strada da tanti esserini. Era ironica di quel senso dell'umorismo british che aveva sfoggiato anche al di là dell'Atlantico in uno dei capolavori di umorismo, questa volta americano, il mitico invito a cena con delitto 1976 insieme a grandi come Peter Falk, David Neven, Peter Sellers. Ma la sua carriera le aveva già regalato premi su premi, vinse di tutto, tra cui due Oscar ricevuti nel 1970 come miglior attrice protagonista per La strana voglia di Jane, di Ronald Neame, nei panni di una professoressa mal vista per l'anticonformismo della sua vita privata e delle sue idee politiche e come non protagonista accanto a Michael Caine in California Suite del 1979. Siamo allo sport, per il calcio stasera Milan in Lecce in campo per l'anticipo della sesta giornata di Serie A, hanno vinto i rossoneri per 3-0. L'onda lunga del dopo derby prosegue per un Milan che sale provvisoriamente in testa alla classifica insieme al Torino. Dopo un avvio equilibrato, la formazione di casa chiude i giochi nel giro di soli 5 minuti. Il gol del 1-0 nasce dalla punizione sul primo palo di Theo Hernandez. Morata inaugura il suo nuovo taglio di capelli con un colpo di testa imprendibile per il portiere Falcone. La difesa giallorossa non riesce più ad arginare gli avversari, sulla sinistra Leao pesca in aria Hernandez e secondo un collaudottissimo schema del Milan, il sinistro dal basso in alto in fiamma di nuovo San Siro, ma non è ancora finita. Dal palo colpito da Ebram si sviluppa un'altra azione degli uomini di Fonseca, con un altro tentativo del giocatore inglese, e poi Pulisic che si ritrova faccia a faccia con Falcone. Il sinistro dello statunitense manda in archivo la partita ancora prima del fischio di fine primo tempo. Nella ripresa Fonseca toglie dal campo Morata dolorante e Pulisic, uno dei subentrati, Loftus-Cic, scheggia la traversa con un tiro cross dalla destra. Dura invece appena cinque minuti la partita del classe 2005 Bartesaghi, espulso per un brutto fallo su banda. E domani tre incontri con protagoniste le altre italiane di Champions. Alle 15 l'udinese ex capolista ospita l'Inter. Alle 18, a porte chiuse dopo gli incidenti che hanno funestato il derby di Coppa Italia, la sfida fra Genoa e Juventus. E alle 20.45 Bologna-Atalanta con entrambe le formazioni a quota 6 punti e decise a risalire in classifica. Il ciclismo è in lutto per la tragica scomparsa della 18enne svizzera Muriel Führer, caduta ieri durante la gara Juniors ai mondiali di Zurigo. Il fortissimo trauma cranico riportato e i soccorsi non arrivati rapidamente sul luogo dell'incidente hanno compromesso la situazione clinica dell'atleta. La Führer aveva vinto il bronzo a squadre nel maggio scorso agli europei di mountain bike. La federazione internazionale ha annullato ogni evento collaterale previsto nel fine settimana conclusivo dei mondiali. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi e buonanotte.